Una due giorni di digital marketing con Innovative Days, 4 e 5 novembre, che si terrà all'auditorium Petruzzi del Museo delle Gianti d'Abruzzo di Pescara. Giornate dedicate alla formazione gratuita per imprenditori e professionisti che ha come obiettivo di creare un punto di incontro e confronto sulle dinamiche dell'innovazione digitale che influenzano il business. Questa due giorni è incentrata prevalentemente nella formazione di tutti quanti gli imprenditori di Pescara riguardanti tutte quante quelle che sono le tematiche inerenti al digital marketing con dei formatori che vengono da tutta Italia e che sono i massimi esperti. In questo caso io inviterei tutti quanti gli imprenditori ma anche i commercianti di Pescara a non considerare il digital marketing come un nemico ma come un sistema che se integrato non può far altro che migliorare anche quelli che sono il commercio offline all'interno della città di Pescara. La Innovative Days APS che ha organizzato questo evento di due giorni 4 e 5 di novembre dove ci saranno dei talk con formazione per quanto riguarda le tematiche del marketing sono attinentissime con quelle che sono lo sviluppo delle diffusioni anche dello shop in generale. Dobbiamo incoraggiare come amministrazione le iniziative e soprattutto i giovani che hanno idee innovative da applicare sul territorio e siano essi riguardanti maker privati che ovviamente riguardanti la pubblica amministrazione. Non a caso in un recente passato anche delle soluzioni innovative sono state implementate nei nostri servizi e pertanto ci gioviamo del fatto che ci siano queste iniziative per poter acquisire maggiori competenze sul territorio, da spendere sul territorio e renderlo più ricco.